Questa è una pezza! Ma tu lo sai che questo uomo ha il record della storia di YouTube di GhiPiace per la 3.500.000 di GhiPiace Ma cosa ho fatto che la sono? La cosa è la tristezza Mi credo che 3.000.000 di account per la foto da Pai ecco perché volete andare a ballaggio capito sono bellissime il momento sarà buissimi andate su youtube? certo su facebook fare un saluto a youtube ragazzi ciao youtube mettete il più mi piace